ma che mi piace tanto il tuo ping ma bella da bella quant'è smoker? smoker è il nostro ping è bravo eh al massimo smoker oddio ma che il mio è il duca ma lì dove la metto io è bastato smoker non metterla lì senti senti ti fate metterla qua ma scusami ti fate metterla qua ti fate metterla lì no? no ma che cavolo fai lì? oh io cantano sempre qua se non hai capito è lucanorissimo guarda ma come cazzo ho fatto verso un muro siamo 4 in questo 3 ma si ma era attraverso quella cosa ha sparato no mi sa che si vedeva un pochettino spero solo che non arriva da solo un pochettino così Luca spara ma stai Marco mi vengo da te staresti tu sopra di me sarebbe il po' ok va si è sopra si è alber ma cosa sono le poltrone merca ok ragazzi non lo diciamo eh la dole lo gricciore lascia lo gricciore dove che c'hanno tutti tanto gricciare noi dice come questi sono italiani secondo me fammi oh è sopra Luca è sopra stai attento Luca non dire uno è sopra la sua base e ti impugni dici? ah beh dimmi dove è è andato via è dietro il pomerone credo è il pomerone ma dove? no dai ragazzi appena se hai capito abbiamo messo ragazzi io cani ma che vale finita con e stava e marco e finita ma è comunque vinta valentine non era lì alla come si chiama a rinunciare l'arista e con l'arma stai con l'arma stai con l'arma stai con l'arma ma non cazzo vuoi sanno coglione sopra l'ho lì lo trovi davanti a te lo trovi davanti è lì è lì vai vai gira gira fai schifo vinta no luce cazzo dai l'ho lì fai cagare come infatti fate ammazzare voi dite mette di l'arma io con l'arma mi trovo meglio si ma si trovi meglio in quel cazzo spari il laser vai fai schifo dai giocare è insomma tu fai l'esercito caetella vabbè hanno vissuto la scatola porca p***a Eh, Rosy, calavanti. Vuole stare nelle ms, comunque, ragazzi. L'ho visto. Non l'ho fatta. Cazzo l'ho cercato. Aspetta, c'è per me. Eccolo qua. Eh, mi ha sgammato il pieno. Aspetta, Luca, cerco io di prendo. Non ce la fai. E ti sgammolo. Eh, non so che mi sgammolo. Ma stai dicendo... Un be bene. Stai dicendo un be bene. Un be bene stai dicendo. Sì, ma attento. Vabbè, hanno un retto. Cosa faccio io? A chi ha sparato? Hanno un retto. Sì, hanno un retto, sembra. Ora mi ha spesso in questo. Sì. 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 ma che era un ragazzo la gamba perché non faccio niente però 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 non voglio dire ma si chiamano quell'arma di poveri vale è sopra non prendermi sopra vabbè 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 cazzo zia non devi stanno due orto guarda mettila l'ho detto il cazzo tutti i glici da merda ma va ma aspetta una presa quello dice quei giocatori guardalo ragazzi bastino ricordi sono tutti basta diciamo cambiamo che anche su un'altra mappa così cos'è una penna a volte col sì ma c'è una mappa in effetti i tomb rider o i bob rider non credo Sì, vabbè, Tomb Raider, come no? Ah, perché mobbano tanti Tomb Raider, no? Sotto sotto. Ma qua Hacker, non è Hacker, nessuno Hacker. Hacker no. Hacker no Luca, buttali fuori. Cazzo, quale è la spina? Che la spaccoli, guarda che mamma mia. Vai, l'alto a te, l'alto a sinistra, come inci? Oh, raga, mi dispensi, c'è il cane. Vi pianta a te. Vai davanti, c'è l'un altro. Vai via. Allora, uno è la gru. Però il primo è il primo piano. No, perché l'hai preso? Vale, l'ho chiamato da distanza, dai. Oh Luca, mi dispiace se il clan non era bannato, eh. Fa cosa? Stacco la spina. Ok. Vaci, vaci. Ui, è messo a uscire dalla clan. Non fare cazzare. Vai Luca, facciamo un cazzo. Ma fa mazzo. Eici. Se l'hai da dietro, non ce lo sai. Arriva. Mi sa, eh. Non fai. Tu fatti metà i cazzi, se ne stai fermo magari te lo dico. Ma forse è win nostra. Ma la f******o qua. Uno si è, uno si è suscitato da loro. E per questo le ho perso. Sì, 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 sì. Dopo questo facciamo shot. Ma perché non facciamo sniper roll? Perché siamo bravi, tutti bravi siamo a sniper roll. Sì, certo. Oh, bella. Sì, l'ha risposto, man. Sì, e... Mi richiamo, sta un po' anche. Ok, bella. Ok, bella. Comperiamo. No, dobbiamo killarli, dobbiamo killarli. Sì, smoker. Oh, dobbiamo killarli, eh. Cazzo, ragazzi, che finito cane. Perché sono ucciso... No, ho fatto un po' anche su computer. Negative. Smoker! Dietro di te, dietro di te, smoker. Ho ucciso io. Va, non ringrazio nemmeno smoker. GG. Suntini in basso. Dai, ragazzi, non è ancora detto tempo. Abbiamo più killarli, abbiamo più killarli. Non andare, smoker, non andare. No, fanno riuscire, fanno riuscire, fanno riuscire. No, fanno riuscire, fanno riuscire, fanno riuscire. Erano tre contro... quattro contro uno erano. E' un cazzo. Dietro, dietro, dietro! Vai, vuole! il punto è che il lago è una bestia sempre a gliciare l'olino dietro e lì lì la nostra base è rotto le pavle se hanno avuto la mezza non ci deve è che è compito ragazzi chiudiamo un accampariamola chi era il nome scusami ok cambiamo cambiamo cambia cazzo guardi questa la stai frazzando ok no ti picchiamo signora signora i game over stanno sfidando i team caos e i team caos stanno prendendo come coglioni lol cittadino lissima ok siamo iniziali aggiungetemi su facebook aspetta ragazzi appassiamo un altro no 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 luca presenza è that not ragazzi siamo sovrappollati comunque non va bene così notte se io ho avuto solo il tiro dopo faccio a vero porto 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 bravo marco Eeeh! Piangi! 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 Piangi!